Allora ragazzi, finalmente a casa dopo un po' di riposo che era d'obbligo dopo questo live senuante che stavolta è stata veramente dura ma ce l'abbiamo fatta, stanchi ma contenti come sempre iPhone 6 da 4.7 pollici in versione gold, ero orientato per la versione nera, la space grey ma ho cambiato idea all'ultimo poiché mi ha convinto molto di più quest'anno la versione gold rispetto a quella del 5S poiché la tonalità è più chiara e più cangiante alla luce come vedete l'estetica è stata completamente rinnovata, ridisegnata, il profilo è molto tondeggiante in linea con iPad mini e soprattutto super super sottile come vedete, 6.9 mm, lo smartphone più sottile sul mercato e questo va a influire soprattutto nella presa che in mano è veramente piacevole sia senza custodia che con una custodia che altro dire, è stato spostato il tasto power come sapete nella parte laterale destra ed è diventato molto più comodo premerlo con il pollice, l'utilizzo con una mano i tasti volume anch'essi ridisegnati allungati dunque molto fashion l'altoparlante sulla parte posteriore destra e il jack per le cuffie come detto si tratta di un dual core da 1.4 MHz sicuramente inferiore a tutti gli android diciamo di ultima generazione ma come sappiamo ciò che fa la differenza su iPhone è soprattutto il suo software iOS e la sua ottimizzazione e dunque smartphone molto reattivo, molto molto più reattivo di iPhone 5S tra l'altro Apple per tutti coloro che possono avere un problema nell'utilizzo con una mano ad esempio le donne, le ragazze che hanno le mani più piccole ha implementato questa funzione che io definirei geniale anche se banale se vogliamo doppio tap sul touch ID, l'interfaccia scende possiamo premere ciò che sarebbe nella parte superiore in modo molto più comodo questo possiamo farlo in tutti i reparti del telefono su Safari, su WhatsApp, su tutte le applicazioni per premere, per inserire un indirizzo ad esempio su Safari doppio tap sul touch ID, l'interfaccia scende e possiamo inserire comodamente la batteria la batteria da 1810 mAh Apple assicura una durata in linea con iPhone 5S sicuramente la batteria dell'iPhone 6 Plus si comporta sicuramente meglio poiché è una batteria più grande da 2915 mAh schermo più grande ma comunque la durata della batteria del fratello maggiore di questo iPhone 6 dura circa 4 ore in più e quindi tutti coloro che sono soliti smanettare tutto il giorno sul loro smartphone gradiranno la versione più grande per il resto che altro dire il display si tratta sempre di un display retina in questo caso HD da 1334 x 750 il peso è 129 grammi leggermente superiore a quello di iPhone 5S per tutti gli altri focus per una recensione completa a 360 gradi di tutti gli aspetti di questo nuovo smartphone Apple vi rimando alla recensione che arriverà nei prossimi giorni targata Andrea Cervone per quanto riguarda iPhone 6 e Francesco Siciliani per quanto riguarda l'iPhone 6 Plus l'ultima cosa che voglio dire questa fotocamera sporgente che è stata oggetto di discussione sul nostro blog devo dire sì al primo impatto fa storcere il naso poiché l'iPhone è sempre stato sinonimo di perfezione estetica dunque vedere questa fotocamera sporgente lascia un po' di dubbi ma devo dire con la custodia inserita alla fine poi non si nota più di tanto stessa cosa per queste barre posteriori ci si fa l'abitudine soprattutto se si usa una custodia che copre la parte posteriore non si vedono neanche più Touch ID come detto funzionerà su molte altre applicazioni e servizi che arriveranno in futuro e il test della batteria così come tutte le altre cose come già detto arriveranno nei prossimi giorni ragazzi per ora è tutto vi do appuntamento ai prossimi focus ai prossimi video dedicati ad iPhone 6 e iPhone 6 Plus per iPhone Italia GG Calabro un saluto ciao